no carini lei fa tanto da spavolta con quelli più piccoli e fa quello che fa lui no? esatto e dici ma dai ma non ti faccio il pietro no c'è lui eh adesso pensai a bottiglia questo dai sei ti è stancata no lei lei è proprio buona gioca con tutti però guarda la brava femmina giustamente eh non me lo sa ci prende gusto va è bello grazie grazie grazie